Animazione lavagna. A proposito di video futuri. Aiuto televisione. Come suggerisce il nome, come disegnare lettere e immagini sulla lavagna è un'animazione. Gli esseri umani hanno informazioni visive e uditive e l'abbinamento rende più facile la comprensione perché ha la caratteristica di animazione lavagna per approfondire la comprensione dello spettatore il mezzo più adatto. Facile da capire e trasmettere. Per spiegare usando illustrazioni e figure facile da capire per gli spettatori il contenuto è animazione lavagna la caratteristica più grande. Gli esseri umani hanno informazioni visive e uditive e l'abbinamento rende più facile la comprensione perché ha la caratteristica di animazione lavagna per approfondire la comprensione dello spettatore si può dire che è il mezzo migliore. Animazione lavagna facile da guardare fino alla fine c'è una caratteristica. L'utente ha detto, che tipo di illustrazione è il prossimo? Chissà se uscirà. A causa della tendenza, il tasso di prelievo è basso. Infatti, animazione lavagna è il tasso di conservazione della visualizzazione e dell'80% sta dando un numero alto. Video di youtube generalmente 50% visto fino alla fine trattandosi di un video, questo numero è alto si può dire che. Inoltre, gli esseri umani muovono le cose perché lo seguirò con i miei occhi. Animazione lavagna utilizzo di lettere e foto. Gli spettatori non sono solo cose è facile interessarsi. I video futuri sono facili da capire. Animazione lavagna animazione a grandezza naturale. Si prega di iscriversi al canale. Aiuto television.